e si arriva al diciottesimo Bonini tira forte su Galli in uscita che non trattiene arriva Rossi, vede lo specchio chiuso serve Bettega al centro che appoggia in rete ed è una zero a sei minuti dal termine il secondo gol Ferroni tenta l'anticipo ma tradisce Galli con un autorete prima della mezz'ora il terzo gol lo firma Rossi dopo un bel dialogo con Platini